Le varie anime socialiste salernitane non sono riferibili al PSI e al nuovo PSI provano a riunirsi per uno scopo nobile, quello di creare un centro studi per promuovere e sollecitare riflessioni sulla figura di Vincenzo Giordano, sindaco di Salerno, dall'8 marzo del 1987 al 22 maggio del 1993, quando fu travolto da Tangentopoli per poi uscirne completamente pulito ma provato duramente nel fisico. Un progetto, quello presentato a Palazzo Sant'Agostino che punta a studiare su una possibile prospettiva futura dei valori socialisti analizzando il passato partendo ovviamente dalla storia socialista di Salerno, approfondendo il lavoro di Vincenzo Giordano, protagonista della svolta di Salerno negli anni nei quali furono poste le basi per la trasformazione del capoluogo. L'obiettivo è quello di guardare al futuro, qualcuno ha detto che il passato è una lanterna posta alle soglie del futuro, dobbiamo guardare al futuro e per ricordare un socialista riformista quella stagione di Vincenzo Giordano bisogna pensare al futuro. La Salerno socialista di Enzo Giordano è quella del corso Vittorio Emanuele, della Lungo Irno, del più grande e consistente piano di edilizia popolare, è quella che è intervenuto per tutelare le aree verdi, è la Salerno dello stadio Arechi con il contributo fondamentale di Aniello Salzano. Ecco, Salerno deve recuperare una visione, rilanciare sulle cose da fare ed è così che si ricorda un socialista riformista come Vincenzo Giordano. Il prossimo passo sarà quello di creare un vero e proprio comitato promotore con la speranza di trovare una sponda anche a livello locale. Tra le prime adesioni quelle del neosegretario nazionale del PSI, il salernitano Enzo Maraio e dell'ex governatore della Campania, Stefano Caldoro. Vincenzo Giordano ha rappresentato il meglio della vision dell'urbanistica socialista negli anni 80, tant'è che quello che poi ha ideato e progettato Vincenzo Giordano e l'aggiunta di Vincenzo Giordano è stato poi esecutato nei primi anni del 2000 ed è stato l'emblema della primavera salernitana di cui ha parlato il paese intero. Non poteva essere diversamente omaggiare la figura del socialista Galantuomo e del sindaco Galantuomo che rappresenta Vincenzo Giordano. Per noi socialisti Vincenzo Giordano rappresenta la nostra storia ma rappresenta anche il futuro ed è per questo che rispettando quella tradizione, studiando quella tradizione e cercando di adeguarla alle prospettive future, noi cerchiamo di ricordare la figura di Vincenzo Giordano ma pensando al nostro futuro, quindi un piede nel passato ma lo sguardo dritto è aperto nel futuro.